Anticipazioni Tempesta d'amore, domenica 11 agosto 2019. Paul interroga Annabelle che risponde senza lasciarsi intimorire alle sue domande. Ma Rovi ha grandi dubbi sulla versione della Sullivan e continua a investigare. Ovviamente la donna è pronta a metterle i bastoni tra le ruote. Denise vuole sapere da Henry la storia del suo antenato George. L'uomo poi riceve una telefonata che lo lascia di stucco. Alfonso è sopraffatto dai tanti auguri ricevuti nel giorno del suo compleanno. Sebbene già sapesse del regalo di Hildegard, si mostra molto emozionato. Andrea e Werner nel frattempo, durante il party del loro amico, iniziano a battibeccare e apposti in competizione. Annabelle si aspetta che Joshua sia maggiormente coinvolto nella direzione dell'hotel. Il ragazzo però la delude. Il zombie Claire riceve un regalo molto romantico. Accade poi qualcosa di imprevisto. Annabelle licenzia Romy. Christos cerca di interessarsi alla questione. Qualcuno interviene per porre fine alla vendetta. Henry si trova costretto ad alloggiare al Fustenhof. Emerge che un valido veterinario è rimasto stregato dalla dolcezza e dal fascino di Denise. Il suo rapporto con la giovane si fa ogni giorno che passa sempre più intimo. Grazie. Grazie.